È bravissimo, ha un'intonazione pazzesca, non si può sbagliare con Eros. Però ho la fortuna di avere una band di musicisti top, stratosferici. Ho iniziato con lui nel 95. Fare un pezzo come Fuoco, come il Fuoco, come una versione latina, o trasformare cose della vita, o maneggiare un attimo di pace. Io mi sono divertito molto. È molto raro trovare qualcuno che è così genuino e ampio. È abbastanza cool. L'aspetto che viene fuori di Eros, che a me diverte tanto, è che sul palco fa morire l'allenizare, cioè è molto simpatico. E addirittura le prime date che abbiamo fatto mi distraeva questa cosa, perché ero lì a guardarlo e mi piaceva delle mosse divertenti. Ho fatto la partita di record e ho chiesto di tornare e fare la tour. È veramente meraviglioso vedere che gli artisti hanno avuto tanto tempo, e vedo così giovani, ragazzi, ragazzi, ragazzi e ragazzi. È quasi come la Rolling Stone o qualcosa. Ahahahah